Buonasera e benvenuti al nostro quarto appuntamento di queste nostre riunioni del mercoledì dedicate al dialogo tra filosofia e psicoanalisi. Voglio intanto per cominciare salutare i nostri ospiti che sono Davide D'Alessandro che organizza con me questi incontri e soprattutto l'ospedista sera che è il professor Umberto Galimberti. Voglio dire due parole del professor Galimberti ma proprio per le tre persone che ci stanno seguendo che non lo conoscono. Allora il professore si lavora in filosofia con Emanuele Severino con una tesi su Carli Aspers, poi ha insegnato filosofia per moltissimi anni a Caffoscari a Venezia. Come tutti voi sapete è un editorialista da tantissimi anni di Repubblica e cura anche una rubrica settimanale molto seguita su D. E la cosa interessante che credo lo rende un po' unico per adesso negli incontri che abbiamo organizzato fino ad ora è il fatto che in qualche maniera la sua vita si intreccia proprio con il tema di cui noi ci stiamo occupando, cioè da un lato diciamo la filosofia e dall'altro la psicanalisi e la psichiatria. Infatti lui ha avuto una formazione di tipo giugliano presso il CIPA e ha avuto anche una lunga collaborazione, una lunga amicizia con il nostro comune amico Eugenio Borgna. Non starò a dire di tutti i suoi articoli e di tutti i suoi saggi, vorrei però qui ricordarne due. Il primo è l'ultima sua fatica pubblicata nel 2020 per Feltrinelli che si intitola Heidegger e il nuovo inizio, il pensiero al tramonto dell'Occidente e poi proprio a testimonianza di questo intreccio di cui spero nel nostro incontro potremo parlare vorrei ricordare il famoso dizionario di psicologia che lui ha pubblicato per la prima volta nel 1992 per UTET e poi fino all'ultima edizione che è uscita sempre per Feltrinelli nel 2018. Diciamo ecco ringraziandolo veramente per aver accettato il nostro invito passo la parola a Davide D'Alessandro riservandomi come sempre eventualmente di intervenire per le domande che possono arrivare dal pubblico e poi per i saluti finali. Prego Davide. Grazie buonasera e bentrovati. Caro professore eravamo dentro quella stanza in questi giorni di un anno fa prima che il mondo cambiasse prima che arrivasse la pandemia in quei giorni ci stavamo chiedendo del silenzio di qualche mese da parte di Emanuele Severino poi Emanuele Severino di lì a poco è venuto a mancare e in questo nuovo libro cui ha fatto riferimento Francesco Bollorino e cioè Heidegger e il nuovo inizio il pensiero al tramonto dell'Occidente ho trovato con grande piacere prima di leggerlo e prima di scriverne che è dedicato alla memoria di Emanuele Severino. Cominciamo da un ricordo di questo grande maestro se vuole. Ma io ho conosciuto Emanuele Severino nel 1960 e sono stato al suo fianco prima come studente poi come professore all'Università di Venezia fino a 2020 quando è morto quindi ho passato 60 anni con lui. Lui ha costruito un pensiero perfetto, perfetto nel senso concluso in se stesso all'interno del quale non si poteva intervenire e mentre i miei compagni di studio hanno passato la vita a cercare di smontare questo edificio che aveva costruito Emanuele Severino io che non ce la facevo ritenevo che fosse un'operazione inutile quella perché le cose quando nascono perfette le contemplino come si guarda un quadro lo contempli non gli fai l'obiezione al quadro e allora mi sono dedicato al mondo della vita il mondo della vita vuol dire il mondo della vita non è una mia espressione l'espressione di Husserl che vuol dire parlare del corpo parlare di tutte per esempio anche delle patologie lette filosoficamente non necessariamente solamente in termini psichiatrici significa occuparsi di quello che succede nel mondo per cui ho scritto quel libro sulla tecnica e poi tanti altri che riguardano sempre il mondo della vita le sue manifestazioni evidentemente questo non piaceva a Severino anzi lui era un po' disturbato da questa cosa e allora che cosa succedeva che sapeva benissimo che io non mi sarei più mosso dal mondo della vita e al tempo stesso non riusciva a rinunciare alla nostra amicizia che era diventata un'amicizia molto affettuosa e molto sentimentale tant'è che due mesi prima che morisse mi aveva invitato a cena con lui e lui era ancora bello vispo allegro mangiava beveva come se fosse sano e infatti era sano poi come come al solito quando succedono le cose le malattie al cuore o le malattie dell'ictus si crolla immediatamente e si finisce la propria esistenza e questo mi ha dolorato moltissimo perché Severino senza dubbio è stato il più grande filosofo del novecento non ho nessun dubbio su questo e non lo dico per ragioni affettive dico proprio per ragioni oggettive il suo pensiero è stato portato da cornelio fabbro a suo tempo è stato fatto vedere ad heidegger cornelio fabbro parlava benissimo tedesco e heidegger a partire dalla sua superbia naturale definì Severino un iperontico iperontico vuol dire che Severino affermava l'eternità degli enti mentre per heidegger funzionava la differenza ontologica tra essere ed ente e l'eterno era semplicemente l'essere questa era la grande differenza ma tutte e due sono state dei grandi grandissimi filosofi faccio presente che nel 1950 quindi quando Severino si è laureato in filosofia all'età di 21 anni la sua tesi di laurea era heidegger e la metafisica ed è interessante perché io che ho guardato nello scrivere questo libro tutte le obiezioni che sono state fatte ad heidegger da Carnap da Nartop da tanti neocantiani Hartmann tedeschi l'unico che ha beccato heidegger in una grande contraddizione è stato proprio Emanuele Severino nel senso che gli ha segnalato tu heidegger vuoi scrivere un libro su base fenomenologica bene ma si stabilisce che l'essere è al di là del lente devi fare un'inferenza esattamente come fa la metafisica quando dice il mondo è contingente quindi ci vuole un essere necessario che giustifichi la presenza delle cose nel mondo stai facendo perfettamente il metafisico questo Severino lo diceva d'Heidegger quando aveva 21 anni da lì poi rendiamoci conto cosa può essere stato quell'uomo questo libro ha già avuto un successo rilevante credo che abbia già fatto tre edizioni lei nel libro assesta anche qualche stoccata per esempio sul versante dell'antisemitismo il presunto antisemitismo heideggeriano che lei contesta e a cosa attribuisce il successo di questo testo dunque heidegger è stato accusato di essere nazista e antisemita no certo che sono due accuse pesanti accuse pesanti che hanno determinato la sospensione di heidegger dall'insegnamento il divieto delle sue pubblicazioni la reclusione in casa nella sua casa sono stato alloggiato dal comando francese che si era si aveva conquistato triburgo aveva collocato due famiglie aveva tolto ad heidegger tutti i libri e lui si trovava in una stanza senza luce con la candela andava avanti a studiare a prescindere dei libri che non aveva più e dagli abitanti della sua casa che erano due famiglie poi è stato mandato a zappare sul reno e lì lui l'ha fatto tranquillamente poi naturalmente ha avuto qualche disturbo mentale come immagino tutti quanti dopo questa esperienza potevano aver avuto è andato a farse curare da un grande psichiatra fenomenologo fenomenologo che era ghebsattel il quale l'ha rimesso in pista e e dopo di che ha continuato dunque per quanto riguarda il suo nazismo sono nazi l'idea che mi sono fatto è che altri che non capiva niente di politica era un uomo sostanzialmente apolitico però era un era un professore universitario e cosa è successo che nel 1933 si trattava di nazi nazi rendere nazista l'università l'università dove heidegger è andato a insegnare era presieduto dal rettore von moeller il quale era stato trasferito altrove e allora i professori della stessa università chiesero ad heidegger di fare lui il rettore perché altrimenti avrebbero mandato un rettore nazista heidegger ha fatto il rettore per nove mesi otto mesi e in questi otto mesi lui aveva in mente di riformulare radicalmente la struttura universitaria questo è il suo vero intento e riteneva questa è la sua ingenuità politica che il nazismo allora nascente che veniva sostituire la bellezza di 52 partiti che c'erano in germania fosse un'occasione per avere la possibilità eliminata la confusione 52 partiti di poter modificare l'università ecco poi gli fu chiesto allora di tra le altre cose lui aveva molti allievi ebrei tra cui lovi tutta c'era anders eccetera e gli fu in posto di bruciare i libri ebrei e lui si rifiutò invece un semita un antisemita li brucia e poi dopo dopo otto mesi si era stabilito che la linea che teneva heidegger non era sufficientemente coerente con l'ideologia nazista e allora fu invitato a dimettersi e lui si dimise dopo di che si effettivamente ha pensato in modo nazista per otto mesi di lì ma ripeto per ingenuità politica per quanto riguarda l'antisemitismo io sto con gardner il suo giudizio gardner intervistato da antonio gnoli e franco volpi franco volpi è il grande traduttore di tutte le opere di adegri purtroppo è morto ma l'amoriente si è andato in bicicletta si è superato da un camion e abbiamo perso un grande un pensatore in termini degli eriani bene cosa è successo che gade me sostiene che heidegger non era assolutamente antisemita aveva avuto studenti ebrei che lui aveva collocato nelle università europee perché aveva capito che in germania non avrebbero più potuto insegnare unica eccezione levit che non ha sistemato tra le vite e si è creato un dissidio non indifferente poi gade me riferisce che con i suoi colleghi ebrei faceva seminari ha citato sempre gato ma una lettera che lui aveva scritto a sua moglie che gli unici le persone più intelligenti sono gli ebrei e che lui non faceva una distinzione di razza ma di intelligenza e da ultimo gade me raggiunge che tutto sommato il suo amore grandissimo per anna era la prova che era ebrea era un'altra prova che insomma con l'antisemitismo e che non c'entrava proprio niente però che cosa succede io penso che tutte queste accuse e il nazismo gli ha offerto l'occasione di essere così accusato dipendono dal fatto che ha il filosofo più importante del secolo ha qualcosa come un 30 mila saggi iscritti su di lui in tutte le parti del mondo e questo che ha dato fastidio e ai suoi colleghi e a tutti i suoi successori anche noi abbiamo avuto un ministro della pubblica istruzione che era un filosofo per me un grande filosofo che era giovanni gentile ma non li abbiamo scara che era fascista era ministro della pubblica istruzione del governo fascista ma non abbiamo creato questa opposizione così radicale perché forse giovanni gentile non era famoso come a diri in tutto il mondo perché tutti hanno tradotto a diri dai francesi agli inglesi ai giapponesi ai cinesi tutto il mondo su tutti gli scenari infatti in quel libro ho fatto una bella bibliografia di 60 pagine ragionata divido tutte le opere che sono state scritte su di lui senza citarle tutte ma quasi e dividendole per settori sulla fenomenologia hanno parlato questi sulla teologia di heidegger hanno parlato questi sulla psichiatria di heidegger perché heidegger si è occupato anche di psichiatria non tanto perché ha tenuto le conferenze a soldi con in quella clinica nella clinica di soldi con quanto perché gli psichiatri hanno catturato heidegger per cambiare radicalmente la psichiatria questi psichiatri si si chiamano bischwanger si chiamano gebsatel si chiamano strauss si chiamano bonhoeffer e qui apro una parentesi bonhoeffer aveva la possibilità di far fuori hitler perché quanto hitler ha incominciato all'inizio della sua carriera non sembrava tanto giusto i suoi amici le avevano consigliati di farsi visitare da bonhoeffer carlo bonhoeffer il quale e hitler era incerto se andare o non andare poi decise di di non andare e anche perché bonhoeffer non aveva piacere di di curare hitler o di o di considerare hitler come un paziente risultato finale che la cosa non si svolse la codardia di carl bonhoeffer e poi come risposta che cosa è successo che il figlio il grande teologo bonhoeffer è stato messo in capo di concentramento ed è finito così mentre lui poteva benissimo ricevere hitler parlo fuori non parlava più e anche la storia avrebbe avuto un altro senso quando si dice il caso il caso è l'invidia però io ci metterei dentro l'invidia l'invidia e l'invidia consiste nel fatto che perché heidegger è così famoso evidentemente non so non è che succede che uno sia così famoso e tutti scrivono su di lui se non ha detto proprio niente quindi in questo caso tanto per parafrasare la klein l'invidia senza gratitudine senza gratitudine anche gadamer per esempio non è stato stato favorito da heidegger non l'ha aiutato ad andare in cattedra però heidegger non ha sviluppato un odio un risentimento nei confronti di heidegger al contrario ne porta una devozione assoluta perché perché la persona onesta e ha capito che heidegger era un grande maestro punto a capo professore prima dell'intervista mi diceva che fa fatica ultimamente ad andare in televisione perché non c'è altro che covid e non c'è altro che domanda quasi sempre inutile sul covid però questa pandemia quotidianamente ci porta a chi si occupa di filosofia a chi si occupa di psicoanalisi ci porta ogni giorno dentro casa comunque il tema della morte in quel libro che ricordavamo che non a caso ho voluto titolare da severino a galimberti in un'ultima domanda lei mi ha detto di essere un uomo greco e ha spiegato che cosa vuol dire essere un uomo greco ecco lo vuole ricordare proprio a proposito della morte sì essere greci non vuol dire essere nati in grecia io non sono nato in grecia sono nato a monza ma essere greco vuol dire pensare come i greci allora i greci come fanno a pensare pensano a partire da un certo punto che consiste nel fatto che l'uomo è mortale questo significa una grande differenza tra cultura greca e cultura cristiana perché la cultura giudaico cristiana pone l'uomo al vertice del creato gli consegna il dominio della terra e dopodiché non dobbiamo meravigliarci che scienze tecniche siano nati in occidente nell'occidente cristiano perché fare scienze fare tecniche non era altro che eseguire il comando di dio dominerai sugli animali della terra i volatili del cielo i pesci delle acque i greci non avrebbero mai pensato che l'uomo può dominare la natura perché l'uomo al pari di tutti i viventi nasce cresce genera muore non c'è una speranza ultraterrena quando prometteo interrogato dal coro non è che tu hai promesso ai mortali qualcosa che non potevi mantenere e lui dice sì ho dato loro cieche speranze cioè l'idea che si poteva sopravvivere al di là della morte allora cosa succede che questa cultura della morte e questa equiparazione dell'uomo a tutti i viventi nascere crescere generare morire bene con la differenza che l'uomo sopra la morte perché sa di dover morire a differenza degli animali però questo è il destino tragico del greco i greci sono tragici sono tragici e la tragedia non è un'opera letteraria ma dice come ben di jasper dice nelle sue pagine dedicate al tragico che shaspir non è un tragico perché vivi in una cultura cristiana racconta episodi tragici ma tragici nel senso che sono episodi veramente in qualche modo crudene ma non c'è lo spirito della tragedia lo spirito della tragedia lo dice bene sileno quando incontra remida remida gli chiede ma qual è la cosa migliore che io posso fare e il satel gli risponde stirpe miserabile ed effimera effimera figlio del caso e della pena perché mi costringi a dirti cose che per te sono impossibili da sopportare meglio per te non essere nato è la cosa migliore che ti posso augurare di morire presto allora i greci hanno questa dimensione tragica e la grecità è finita con il cristianesimo cristianesimo invece non è tragica è ottimista il tempo lo ha diviso in passato presente futuro la speranza passate male il presente è presente redenzione il futuro e salvezza la scienza pensa in modo perfettamente cristiano il passato e ignorante presente ricerca il futuro è progresso anche in marzo da questo punto di vista un cristiano il passato è giustizia sociale il presente far esplodere contraddizioni del capitalismo il futuro giustizia sulla terra anche freud che scrive un libro contro il cristiano contro la religione però fa il male nel passato dove si 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 configurano le nevrosi e i traumi presente analisi futuro guarigione tutto l'occidente è cristiano perché pensa che nel futuro ci sia la salvezza il futuro è un tempo come un altro e non è che il futuro per il fatto che arriva che giunge fino a noi risolve i problemi che non abbiamo risolti nel passato nel presente no non è vero non è vero e questo lo sanno benissimi giovani i quali non vedono il futuro come una promessa ma lo vedono come una minaccia e questa è la condizione e quindi tra grecità e cristianesimo non c'è nessuna parentela anche se molti filosofi cristiani hanno cercato di far diventare un proto cristiano platone perché platone parla dell'anima a platone introduce l'anima non per motivi religiosi introduce l'anima per motivi di conoscenza siccome noi non possiamo fidarci delle sensazioni corporee per costruire un sapere universale valido per tutti dovremo procedere per numeri idee misure pesi quantità ecco e questi chi ci dà questa informazione l'anima ecco qua un problema di conoscenza che poi agostino preleva e sviluppa la sua teoria dove gli cambia scenario l'anima non è più il regista della conoscenza diventa il regista della salvezza ha appena fatto riferimento ai giovani e come non parlare dei giovani se c'è un acronimo in questi giorni che la fa imbestialire se la conosco un po è dad didattica a distanza è possibile insegnare a distanza no non si può non si può insegnare a distanza quindi bisogna insegnare in presenza e poi neanche la scuola in presenza va che bene tendiamoci perché la scuola italiana lo dico chiaro netto e tondo senza vergognarmi è una scuola che non educa al massimo può se ce la fa istruisce non ce la fa neanche sempre perché l'educazione non è istruzione l'istruzione è passare dalle conoscenze che io possiedo a te che non le possiedi ma già platone avvertiva che la mente non si apre se prima non si apre il cuore e quindi bisogna lavorare a livello emotivo sentimentale e l'educazione consiste in questo consiste nel far passare i ragazzi dalla dimensione pulsionale tutti quanti noi abbiamo pulsione alla dimensione emotiva la dimensione emotiva consiste nell'avere una risonanza emotiva delle azioni che noi compiamo quindi capire la differenza tra bene e male tra cose gravi e cose non gravi perché se non capisci non senti immediatamente queste cose prima ancora giudicare il bene e il male in generale basta se un personaggio pericoloso Kant diceva che il bene e il male possiamo anche non definirli perché ciascuno li sente usa il verbo fühlen sentire naturalmente da sé oggi non è più vero la scuola non comporta i ragazzi dalla pulsione all'emozione perché le emozioni non le cura tantomeno li porta i sentimenti sentimenti non sono un fatto naturale sono un fatto culturale i sentimenti si imparano e come si insegnano i sentimenti c'è quel deposito di tutti i sentimenti che è la letteratura perché attraverso la letteratura tu conosci che cos'è l'amore che cos'è il dolore che cos'è l'angoscia cos'è la speranza che cos'è la sfiducia che cos'è la disperazione il suicidio conosci tutte queste figure attrezzi la mente e quando giunge il dolore avendo la mente attrezzata perché conosci i nomi delle sofferenze e conosci le strategie per uscire perché la letteratura te le hai insegnate e quindi non devi fare necessariamente alla fine del giovane verter allora ti trovi nella condizione di poter gestire la tua emotività e anche il disastro dei tuoi sentimenti e allora capiamo perché eschi lo diceva che il dolore è un errore della mente se la mente è sguarnita non puoi che soffrire non hai strumenti come siamo messi con gli insegnanti beh gli insegnanti non so io queste cose l'ho scritto e purtroppo io vorrei una riforma che non stesse non fosse una riforma burocratica una riforma come si stanno facendo impegnando il professore pomeriggio a fare delle riunioni insignificanti a compilare registri elettronici e cose di questo genere sa che su facebook ho trovato una pagina per umberto galimberti ministro sì ma io non posso fare il ministro perché per la semplice ragione che le mie proposte non verrebbero mai accettate e le mie proposte sono nell'ordine dei seguenti i professori per poter insegnare dovrebbero fare un corso triennale di qualsiasi laurea studiano prendono una laurea triennale e poi la specialistica invece di rifare la triennale con altri professori dovrebbe consistere nell'insegnare a loro come si insegna ma prima di tutto poi bisogna vedere se è possibile insegnare a loro come si insegna allora bisognerebbe verificare se uno ha delle capacità emotive l'empatia per esempio l'empatia non ce l'hanno tutti e chi non ce l'ha non può fare professori mi spiace allora bisogna sottoporre i professori e provuoverli non in base ai concorsi tantomeno in base alle disgrazie che hanno in casa perché allora c'è tanti figli c'è il papà che è paralitico allora vai avanti nelle gradatorie non è questo il criterio per mandare a scuola i professori i professori devono essere selezionati in base alla loro capacità di comunicare di affascinare io non ho nessun problema quando un professore mi plagia una classe ho dei problemi quando me la demotiva e me la demotiva per 40 anni perché di ruolo di conseguenze il ruolo va abolito gli operai di liba non sono di ruolo perché i professori sì e anche questo dobbiamo domandarci qual è la ragione i professori devono essere messi alla prova e quando un professore non funziona lo sanno gli studenti lo sanno i genitori lo sanno i colleghi lo sa il preside e allora si va dal preside diceva questo professore non funziona lui dice lo so ma è di ruolo bene aboliamo il ruolo che dobbiamo fare d'altro no insomma questo significa educazione naturalmente per educare ci vuole una condizione oggettiva le classi non possono essere 30 persone se no hai già deciso che non puoi educare se non essere i 12 15 persone noi potevamo usare questo periodo in cui bisogna fare classi di 12 15 persone per farle sistematicamente anche per il futuro in modo che si creasse la condizione oggettiva per poter educare dopodiché c'era bisognava fare quella soggettiva e quella soggettiva è più complicato perché ripeto ci vuole un test di personalità come peraltro già in funzione per esempio nei paesi del nord si fa un test di personalità e si vede se uno ha la personalità giusta per insegnare oppure no se ha una passione perché ci sono dei lavori che chiedono passione ci sono dei lavori come fare il medico come fare il prete come fare gli insegnanti che se non hai la passione è una tortura fare questi lavori qua umberto gallimberti ha scritto tanti libri però non esagero se dico che ha scritto un'opera e l'opera è questa qui faceva riferimento all'inizio francesco bollorino cioè il nuovo dizionario di psicologia sottotitolo psichiatria psicoanalisi neuroscienza le chiedo il suo rapporto con la psichiatria il suo pensiero sulla psicoanalisi più volte mi ha detto che è fuori dal tempo fuori dallo spirito del tempo e lo sguardo che ha nei confronti delle neuroscienze dunque per quanto riguarda la psicoanalisi il problema della psicoanalisi è che molti psicoanalisti sono devoti del loro fondatore ora insomma anche chiunque fa una riflessione io sono un grande ammiratore di freud anche se sono junghiano perché ho seguito i corsi junghiani eppure però freud è vissuto in un tempo che ha come minimo non era l'età della tecnica non era l'età dell'informatica non aveva una comunicazione come ce l'abbiamo noi oggi non era questo mondo e allora le sue intuizioni alcune delle quali sono formidabili sono applicabili oggi io penso no chi no e allora in questo senso ho le mie riserve nei confronti alla psicoanalisi anche perché le domande delle domande che fanno i pazienti mi ricordo quando ho cominciato a fare l'analista alla fine degli anni 70 che i primi anni 80 la gente veniva in analisi per problemi di natura sentimentale emotiva sessuale eccetera adesso questi problemi non esistono più la sessualità è stata sdoganata quindi non è più un problema e allora cosa dicono questi pazienti oggi chiedono il senso della loro vita e come mai chiedono il senso della loro vita domanda che all'epoca di freud non si faceva tanto meno l'epoca di coloro che l'avevano preceduto perché noi viviamo nell'età della tecnica la quale ci istituisce come funzionare di apparato che tu sia un operaio che tu sia la segretaria di uno studio notarile che tu sia un insegnante tu devi seguire le devi compiere le azioni descritte e prescritte dall'apparato se sei un medico deve fare i protocolli se sei un professore devi fare i programmi ministeriali se sei un impiegato devi fare le cose che ti dice il tuo dirigente la tua coscienza non conta niente niente e se entra in contraddizione con le azioni che ti chiedono devi togliere la coscienza e fare le azioni che ti chiedono esempio se un capo area che in una banca chiede un impiegato di vendere dei titoli spazzatura lui può avere dei problemi di coscienza ma può davvero non vendere i titoli spazzatura no non può perché altrimenti viene licenziato questa dimensione è una dimensione tremenda e vivere nell'età della tecnica significa vivere sotto il criterio della razionalità della tecnica la tecnica non è pericolosa per le cose che fa è pericolosa per la razionalità che diffonde perché una razionalità molto rigida è molto semplice raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi basta niente di più niente di meno la stessa logica che segue il mercato con la differenza che l'economia a differenza della tecnica ancora una passione umana è la passione per il denaro da cui la tecnica è del tutto esonerata se questa razionalità diventa il nostro modo di pensare e lo è già diventato e heidegger l'ha annunciato da tantissimo tempo abbiamo solo un pensiero capace di far di conto conti tecnici e conti economici denken als recknen e non abbiamo un pensiero alternativo a questo tipo di pensiero e allora come facciamo comprendere il dolore comprendere l'amore l'immaginazione la fascinazione l'ideazione come facciamo a comprendere queste cose il sogno la fantasia che sono le parti irrazionali dell'uomo tutta sta roba deve sparire nell'età della tecnica e quindi a questo punto l'uomo viene messo fuori dalla storia ma ne possiamo considerare queste cose oppure ci limitiamo semplicemente a esaltarci per le produzioni tecniche questo è quello che vado pensando e prima di ritornare su psichiatria e neuroscienze lo sguardo sull'uno e lo sguardo sull'altro però su quest'ultima cosa che ha detto professore in heidegger e il nuovo inizio non c'è il punto interrogativo perché esiste non c'è il punto interrogativo dopo inizio perché esiste anche la parola dei poeti esiste anche quella possibilità dunque la speranza non è morta da questo punto di vista per heidegger per me sì perché rientra in quell'ottimismo cristiano il futuro porta rimedio al presente per lui sì resta ma non so in che misura pensava che effettivamente la cosa potesse accadere l'economia è produzione la poesia è produzione la gente non sa il greco che invece bisognerebbe insegnare in tutte le scuole insieme alla filosofia poiesis poietica viene dal verbo poiei poiei vuol dire produrre e cosa producono i poeti un linguaggio quale linguaggio non quella della tecnica non quella della scienza non quello dell'economia non quello che è riducibile al calcolo produce un linguaggio inaudito un linguaggio che non è mai sentito e a partire da lì deve incominciare a pensare e a pensare in modo non metafisico perché heidegger dimostra rigorosamente che a partire da platone fino a niccia la metafisica non ha fatto altro che assicurare all'uomo il possesso e la disponibilità delle cose attraverso il controllo teologico dio attraverso il controllo scientifico cartesio attraverso attraverso poi la tecnica che ne dà proprio la massima espressione e allora i poeti non hanno in mente di possedere le cose i momenti cantano i poeti cantano per niente cantano per l'inutile ora attenzione se noi lavoriamo sempre con la categoria dell'utile a è utile a b b è utile a c c è utile a d e non fermiamo mai questa catena allora tutto diventa inutile ma inutile in senso negativo e purtroppo tecnica e mercato hanno assorbito tutte le cose persino l'arte quando è che diventa arte quando entra nel mercato se resta fuori resta solo un'espressione biografica è buono no il rapporto con la psichiatria e lo sguardo verso le neuroscienze io con la psichiatria rapporto positivo perché ho visto che gli psichiatri sono più attenti almeno quelle che ho conosciuto io che sono qua il primo novecento sono più attenti alla filosofia se noi oggi abbiamo i passi fuori dal manicomio lo dobbiamo alla filosofia di heidegger heidegger non chiama mai l'uomo uomo lo chiama essere nel mondo essere nel mondo essere nel mondo vuol dire appunto che tu ti devi regolare su un mondo che ti impegna che ti sollecita con cui sei in rapporto lo spazio il tempo vengono modificati a partire dal mondo ambiente in cui tu abiti eccetera la psichiatria con biswanger con minkowski con strauss con gebsartel ha assunto di heidegger queste configurazioni a essere nel mondo e le ha portate avanti e questo 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 forma di pensiero che era stato già inaugurato dagli aspers con la sua psicopatologia generale in cui aveva detto a me non interessa una psichiatria esplicativa mi interessa una psichiatria comprensiva non mi interessa sapere cos'è la schizofrenia interessa comprendere questo schizofrenico e questo non lo fai con le spiegazioni lo fai con la comprensione bene poi dopo è seguito tutti quegli autori che prima ho citato hai proseguito in francia con fucol e professe proseguite in inghilterra con leing e cooper e proseguite in italia con carniello con con borgno che è il più grande rappresentante tuttora vivente non ha avuto successo in termini universitari perché era una psichiatria che prescindeva dalle pillole e quando si prescinde dalle pillole si prescinde anche dal business che ci sono con le pillole ora la psichiatria ha fatto queste cose interessanti si è occupato della filosofia e ha capovolto se stessa in che modo il fenomenologo era anche basaglia come ha fatto a chiudere i manicomi se l'uomo è un essere nel mondo non è che possiamo fargli recuperare il mondo chiudendolo nel recinto di un manicomio questo è il principio del suo modo di procedere e adesso vedete la filosofia parte che la psicologia deve dipendere dipende dalla filosofia in una maniera interessantissima e grandiosa comunque se la filosofia non viene studiata se non si percepiscono queste cose non si capisce neanche che cosa sta succedendo nella storia ed è questo quello che è successo dalle neuroscienze invece cosa per quanto riguarda le neuroscienze non ho niente contro di loro o qualcosa se se tentano di diventare il sapere assoluto del mondo psichico allora se loro pensano di essere la scienza l'unica scienza in grado di esprimere la la qualità dell'anima no quello non glielo concedo perché loro mi dicono mi vanno individuare le cause delle sofferenze per esempio un deficit di serotonina produce la depressione benissimo bravi complimenti avete indicato la causa però non avete compreso la qualità della mia depressione il significato della mia depressione queste cose sartre aveva già dette nel 1939 e poi le ribadite nel 1943 quando pubblicato l'essere nulla quando dice che quando noi ridiamo e quando noi piangiamo utilizziamo gli stessi muscoli e lo stesso impegno nervoso ma il fatto che noi usiamo gli stessi muscoli stesso sistema nervoso non significa che pianto uguale al riso il significato del pianto diverso dal riso questa alla neuroscienza non interessa gli interessa partire dai neuroni questi cosa producono e basta ma non mi danno i significati ora i significati sono l'essenza dell'uomo l'uomo non vive senza significati e le cause non sono significanti se non si agganciano al significato naturalmente questo significato non può avere l'esattezza della neuroscienza perché i significati ciascuno li assegna anche privatamente al mondo e quindi ciascuno va considerato individualmente personalmente e non come genere umano in generale come procede invece dall'euroscienza giustamente dal suo punto di vista ma non idoneo alla psicologia prima ha citato eugenio borgna ho appena saputo che a gennaio torna in libreria con i grandi pensieri vengono dal cuore edito da raffaella da raffaello cortina non tutti sanno che il merito di tutti questi libri di borgna forse da attribuire un po anche ad umberto galimberti o no 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 a me da me borgna non ha preso proprio niente anche perché ero io che imparavo da lui perché quando io sono diventato psicanalista però io so che l'inizio tre anni manicomio da lui a novara ma l'inizio della scrittura di borgna no l'inizio della scrittura di borgna è determinato dal fatto che borgna aveva già scritto un'infinità di articoli scientifici i quali hanno la circolazione naturalmente tra gli scienziati ma sono sostanzialmente inaccessibili al pubblico va bene io sono andato da borgna perché volevo vedere i passi insomma quando tu devi curare i neurotici è bene che conosci bene come sono i psicotici perché la differenza tutto sommato è di quantità no vedi su grande schermo il manicomio quello che poi su piccolo schermo vedi nel tuo studio ed io ho fatto tre anni con lui e dopo ho scritto un libro intitolato psichiatria e fenomenologia a partire da questa esperienza manicomiale e ho chiesto a borgna senta mi fa mi fa una presentazione di questo libro e lui ha accettato di buon grado e mi ha scritto la bellezza di 35 pagine 35 pagine e dopo di che una volta che l'ho scritto gli ho detto adesso devo scrivere un libro lei però ecco e lui è cominciato a scrivere un libro bellissimo in cui contrappone la psichiatria fenomenologica la psichiatria organicistica e da qui si capiscono già tante cose e poi ha preso le sofferenze umane una con l'altra ha incominciato con la malinconia e poi la scrittofrenia le emozioni passato alla paranoia anche tutte le patologie le ha presi in considerazione servendosi heideggerianamente dei poeti e della letteratura perché diciamocelo chiaro la letteratura è arrivata a cogliere l'animo umano molto prima della psicologia sempre in anticipo d'ostoevsky io vorrei mettere d'ostoevsky in confronto a molti psicologi che circolano e lui dai se non ha capito l'anima d'ostoevsky chi l'ha capita lui thomas man e poi tutti quei poeti non so prendiamo prendiamo olderli prendiamo rilke che erano poi i poeti preferiti da heidegger erano passi erano schizofrenici ma proprio per questo erano creativi carli asper che è stato il più grande psicopatologo del novecento dice ogni volta che voi guardate un'opera d'arte vi comportate come quelli che ammirano una perla dimenticando che la perla è la malattia della conchiglia e senza la schizofrenia dell'autore quest'opera non sarebbe mai nata le persone che ci seguono lo vedo qui alla parte destra del computer continuano ad insistere sulla tecnica chieda chieda ancora della tecnica possibile che non ci sia un modo per arginare questa sorta di onnipotenza no non c'è perché tutti desiderano la tecnica il problema nasce dal fatto che la gente continua a pensare che la tecnica è uno strumento nelle mani dell'uomo una volta quando la tecnica era elementare quando i i campi venivano arati col bue e col carro quando si lavavano i panni nel nel fiume ecco allora cosa succede la tecnica oggi è aumentata quantitativamente e un altro filosofo che aveva capito tutto in questa dimensione scrive nella sua logica due grandi cose importanti dice prima loro innanzi la ricchezza non sarà più misurata dai beni ma dagli strumenti questo lo dice 40 anni dopo che adam schmidt aveva scritto il suo libro primo libro di economia politica sull'origine alla natura della ricchezza delle nazioni lui dice no non sono i beni che stabiliscono la ricchezza ma saranno gli strumenti perché i beni si consumano e gli strumenti invece producono i beni all'infinito secondo teorema quando un fenomeno aumenta quantitativamente dice hegel non abbiamo solo un aumento quantitativo di quel fenomeno ma abbiamo un mutamento qualitativo del paesaggio esempio se viene in questo momento un terremoto di due gradi della scala mercalli non lo sentiamo neanche se ne viene uno di nove cambiamento qualitativo del paesaggio paesaggio di macerie allora cosa succede e succede che il primo a catturare l'importanza di questo teorema è stato marx e l'ha applicato all'economia marx dice il denaro tutti pensano che il denaro sia un mezzo per soddisfare i bisogni e produrre i beni ma dice marx se il denaro si diffonde al punto tale deve diventare la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e produrre qualsiasi bene denaro non è più un mezzo ma è il fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre i beni se noi lo applichiamo alla tecnica se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo la tecnica non è più un mezzo ma è il primo scopo che tutti vogliono perché senza di lei nessuno scopo è raggiungibile io vorrei chiedere a quelli che non hanno capito il problema della tecnica se riescono a rispondere a questa domanda perché l'unione sovietica è crollata nel 1989 non nel 1960 per esempio perché è crollata in quella data lì non in quella prima perché nel 1960 la tecnica sovietica era superiore alla tecnica del suo protagonista che era l'america e infatti i russi sono stati i primi a mandare lo sputnik nello spazio quelli vecchi come me si ricordano nel 1989 la tecnica sovietica era infinitamente inferiore a quella americana e allora il fine di espandere il comunismo se era sostenibile nel 1960 non è più sostenibile nel 1989 perché manca il mezzo capito e a quel punto trova tutto e la prova evidente quando gorbaccio va nella capitale dell'islanda incontra reagan e gli dica non faccia lo scudo stellare perché la luce non ha una contromossa per controllare questo sistema cosa sta dicendo sta dicendo che la tecnica decide i fini stabilisce i fini ci toglie libertà pensando di darcela io sono libero di non avere il telefonino sono libero di non avere il computer se tutti quanti hanno il telefonino tutti quanti hanno il computer io non ce l'ho non ho solo una mancanza di uno strumento tecnico ho semplicemente l'esclusione dai rapporti sociali la tecnica invaso ormai tutti i territori ha invaso la società oggi si parla tecnicamente non si parla umanamente si parla nei video e adesso abbiamo avuto prova l'importanza di questa comunicazione durante il covid ha invaso la morale perché la morale cosa può fare la morale può chiedere la tecnica che può di non fare ciò che può ce la fa oppure l'etica è costretta a diventare patetica la politica la politica platona aveva pensato che era la tecnica della decisione e diceva mentre le tecniche sanno come si devono fare le cose la politica sa perché e se si devono fare quindi il luogo della decisione oggi è la politica cosa fa guarda l'economia non è più il luogo della decisione la politica è l'economia e l'economia è l'ultima istanza decisionale no perché a sua volta l'economia decidi i suoi investimenti guardando le risorse tecnologiche quando diciamo noi dobbiamo produrre le novità novità tecnologiche le cose brutte lasciamole fare i cinesi o cose di questo genere stiamo dicendo che gli investimenti vanno sulle novità tecnologiche quindi il luogo della decisione è diventata la tecnica la tecnica non ha scopi non ha prescenare di salvezza non ha in vista la distribuzione di un senso non redime non dice la verità la tecnica funziona e basta il suo funzionamento è diventato planetario per cui noi dobbiamo avremo un concetto di verità che significa efficace quando una cosa è vera quando produce effetti di realtà se no non è vera è sbagliata ipotesi abbiamo una natura che è stata ridotta a batteria prima perché solo così è utilizzabile e qui heidegger è stato molto profeta quando ha detto noi non ci limitiamo all'uso della natura ma portiamo la natura fino alla sua usura a me sarebbe piaciuto sapere se questo copito non avesse nessuna parentela con la riduzione che abbiamo fatto noi oggi dalla terra noi uomini siamo ridotti siamo visti come persone oppure il sistema economico così importante ci prevede solo come consumatori produttori e noi dobbiamo consumare per consentire che la produzione continui perché se non continuo veniamo disoccupati e allora come si fa consumare come si fa bisogna inventare dei bisogni questo provvede alla pubblicità e soprattutto bisogna buttare via le cose nel tempo più rapido possibile per cui se un frigorifero non va più bene chiama il tecnico dice sì ci sarebbe questa cosa da cambiare ma le costerebbe tanto quanto comprare un frigorifero nuovo benissimo nichilismo buttare le cose al niente nel tempo più rapido possibile è un allievo di heidegger dice una frase bellissima se oggi noi trattiamo il mondo come un mondo da buttare via problema dei rifiuti finirà che tratteremo l'umanità come un'umanità di da buttare via e secondo me ci siamo già arrivati dal pubblico una persona chiede se la ricerca di un senso dell'esistenza potrebbe essere da deterrente potrebbe potrebbe fare da deterrente a questo dominio pratico e cognitivo del mondo e dell'uomo io ci vorrei associare che nel lontano 2005 per i campi del sapere lei scrisse la casa di psiche libro dedicato a mario trevi psicoanalista e filosofo dice la dedica tra l'altro suo analista questo titolo e la casa di psiche aveva un sottotitolo dalla psicanalisi a proposito della ricerca di senso dell'esistenza alla pratica filosofica è avvenuto questo passaggio no no io ho cercato di fondare a venezia un master di consulenza filosofica naturalmente mi sono procurato tutte le ire degli psicologi perché chiaro no evidente come gli psicologi un giorno hanno patito nei confronti della chiesa perché toglievano il lavoro i professori così adesso i filosofi patiscono le geomorie degli psicologi ci sono delle situazioni che non sono analizzabili psicologicamente io che sono stato anche allievo di jasper lui dice che ci sono delle situazioni che lui chiama situazioni limite grand situation rispetto alle quali gli strumenti psichiatrici e psicologici non sono adeguati vogliamo parlare della morte uno psicologo è in grado di dire qualcosa di più di un filosofo che parla della morte da duemila anni vogliamo parlare dell'angoscia c'è qualcuno che la confonde ancora con la paura invece sono due cose radicalmente diverse ma chi ha detto che l'angoscia non è la paura perché la paura ha sempre un oggetto determinato di cui ho paura il leone il fuoco e quindi un meccanismo di difesa da cui scappo mentre l'angoscia è quando non io mi trovo nella situazione che non ho niente a cui agganciarmi come un bambino quando gli si spegne la luce l'angoscia è nulla a cui agganciarmi queste cose delle filosofi ma anche i successi della psichiatria strada facendo nel novecento come primo accennato gli ha fatti i filosofi allora bisogna fare una santa alleanza tra psiche tra psicologia e filosofia e con la parola psicologia intendo la psicanalisi la psichiatria eccetera una santa alleanza perché ci sono dei limiti alla lettura psicologica e che rispetto ai quali la lettura filosofica arriva in maniera più puntuale più precisa perché se la psicologia si occupa per esempio del mondo emotivo sentimentale eccetera la filosofia si occupa delle idee ma quanta gente sta male perché ha le idee sbagliate quanta gente assume delle idee che ha in testa le chiama principi quando sono solo delle abitudini mentali che non gli consentono di essere in un mondo continuamente in movimento in un cambiamento così rapido che mai l'abbiamo visto e non è alla stessa perché le sue idee non sono all'altezza benissimo i filosofi cercano di correggerli le idee con venti incontri si possono correggere le idee far vedere queste idee non sono idonee a stare al mondo in questo mondo oppure sono sbagliate nel modo di condurre le relazioni quante litigi si potrebbero evitare se si aggiustassero un po le idee dei due contendenti questo fa la 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 costruenza filosofica che può essere individuale oppure può dedicarsi alle istituzioni si chiamano carceri si chiamano scuole perché non insegnare bambini la tolleranza perché i bambini giocano con quelli che hanno il colore diverso della loro pelle fino alla prima la seconda elementare poi non giocano più cosa è successo lì gli è arrivata un'idea storta dalla famiglia che poi i neri non si gioca ecco allora bisogna correggerle subito queste cose se non si pongono le premesse dell'intolleranza da queste ultime parole sulla santa alleanza si evince perché il mio ultimo libro ha per titolo il filosofo e l'analista e perché questa rubrica questo incontro ha per sottotitolo dialoghi tra filosofia e psicoanalisi come a dire ci proviamo e ma queste parole hanno anche da queste parole si evince anche perché l'ospite di questa sera si è chiamato e si chiama umberto galimberti grazie professore la parola bollorino dico ancora una cosa brevissima io in questo periodo non vado mai in televisione non vado a nessuna parte rifiuto le interviste perché se ho fatto un'intervista con voi devo rispondere come no perché c'era questa tematica questa alleanza tra filosofia e psicologia quando lei va in televisione cito un filosofo gli cambiano subito il discorso interviene subito il conduttore di che lasci perdere queste cose guai a voi infatti io dico chiedo scuse cito un filosofo annuncio prima ecco lì non si può bisogna andare per dettati ipnotici qui invece si può parlare si può parlare dimostrare le tesi abbiamo fatto tutto di corso però insomma qualcosa spero che sia rimasto professore davvero per chiudere l'alleanza mi ha fatto venire un'idea ma il tra i più grandi filosofi che probabilmente sarebbe stato uno straordinario psicoanalista possiamo certamente mettere schopenhauer o no assolutamente e freud gli dedica una pagina in cui dice che la psicanalisi è stata inventata da schopenhauer e poi aggiunge che la differenza tra lui e schopenhauer consiste nel fatto che schopenhauer non aveva casi clinici va bene e perché perché schopenhauer aveva individuato una cosa potentissima che noi abbiamo due soggettività una la conosciamo la chiamiamo io e con questo organizziamo tutta la nostra vita l'altra che quella vera che i greci avevano capito era la specie e la specie a decidere quando nasciamo quando cosa facciamo cosa creiamo sono antitetiche le due soggettività la specie interessa la conservazione di sé medesimo non la conservazione degli individui e quando gli individui vecchi non gli interessano più e quindi le lascia morire tranquillamente ecco questo distilio questa tragicità che i greci avevano capito perfettamente non parlava di specie parlava di natura loro e di individuo e se noi la riuscissimo a individuare cosa ha messo freud nell'inconscio le due grandi i due grandi interessi della specie il nostro inconscio cosa contiene le due pulsioni fondamentali cosa sono sessualità per la procreazione e aggressività per la difesa della prole ma a chi torna utile queste cose alla specie e l'io per non sentirsi un funzionario della specie si inventa tutto questo mondo magico di illusioni di sogni di progetti di arrivare al potere eccetera non ha la cultura greca del limite non oltrepassare il tuo limite i greci dicevano chi conosce il suo limite non teme il destino non avevano dei comandamenti non avevano dei precetti da seguire avevano solo questa massima non oltrepassare il tuo limite perché sottropassi il tuo limite prepari la tua rovina sarai un bravo attore ma magari non sei bravo come un grande attore sei un bravo scultore ma magari non sei bravo come figlia non tentare di diventare figlia conosci i tuoi limiti e allora a questo punto eviti di creare di procurarsi la tua rovina e questa cultura del limite noi l'abbiamo persa noi siamo una siamo in una cultura dell'illimitato dobbiamo sempre svilupparci progredire cambiare i telefonini andare avanti con le forme più nuove di computer avanti 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 fin dove è a che pro bollorino però con galimberti siamo andati oltre il nostro limite o no ma certamente io sarei rimasto qua ancora per due ore a parlare a parlare col professore vede io credo che questa serata oltre che ringraziarla per la sua disponibilità e per la scelta di parlare con noi proprio perché questo è uno spazio libero dove ci si può esprimere come ognuno crede io credo che per dire una battuta abbiamo fatto con lei attraverso la tecnologia attraverso il digitale un'ora una splendida ora analogica nella più alto nella più alta sezione del termine e se posso usare un'immagine che mi piace che è quella dell'alta fedeltà io sono uno biofilo di antica di antica stirpe io credo che stasera abbiamo ascoltato uno splendido vinile uno splendido vinile ah quei dischi grandi che in realtà come lei ben sa è molto costoso farlo suonare bene rispetto al digitale ma quando suona bene ed è molto costoso farlo suonare bene suona tuttora infinitamente meglio del digitale diciamo quindi professore che la forza delle parole che sono analogiche anche se mediate attraverso youtube attraverso un canale digitale credo che siano arrivate alle tantissime persone glielo comunico che ci hanno già seguito in diretta e alle migliaia che ci seguiranno poi in differita professore se feltrinelli ha sentito farà un vinile umberto galimberti è possibile perché no dai sarebbe sarebbe una bella idea e in ogni caso dico la ringrazio e nel chiudere questa serata annuncio il prossimo appuntamento che sarà la prossima settimana con carla stroppa che è una psicanalista yunghiana e un'editrice conseguentemente c'è anche questo questo aspetto che è probabilmente intrigante quindi di nuovo rinnovo il mio ringraziamento al professor galimberti vi saluto e vi rimando a mercoledì prossimo arrivederci buonasera grazie a tutti